Mi chiamo Agnese, vengo da Padova, faccio il corso di economia e finanza. Ho deciso di studiare al CLEF innanzitutto per una intuizione iniziale, cioè la finanza è un aspetto del mondo che non conoscevo, che mi ha proprio incuriosito. Tu il tuo rapporto personale con il professore lo puoi avere e questa è la cosa più interessante perché da là nasce proprio un giudizio sulla realtà, un giudizio su cose che, ok, le basi te le danno gli esami che fai, però poi è tutto da formarsi in Bucconi, questa secondo me è l'occasione più bella da giocarsi, proprio uscire da qui con un pensiero sul mondo e sulle cose. Non perdere nessuna occasione che c'è qua dentro perché tra career service, tra incontri con imprenditori, incontri con professori, opportunità di andare all'estero ce ne sono moltissime. Sicuramente scegliere finanza, economia, che è una cosa particolare, un aspetto particolare della vita, non esclude tutto il resto. Quindi non bisogna credere che entrando qua dentro si fa una scelta parziale perché la totalità della vita non rimane fuori. Bucconi è essere protagonista.